Zeffirelli avrebbe chiamato questo video la grande bellezza, mentre stavo scendendo sopra un relitto, a un certo punto sulla destra, come fantasmi, ne arrivano migliaia di orate, adesso in questa ripresa non si vede ma ce ne stavano migliaia, erano tutte enormi, grandissime, sono stati pesci che andavano dai 4 chili fino agli 8 chili e io rimango lì, incantato, fermo e probabilmente perché mi sono appagato non c'era bisogno di sparare e poi continua la discesa verso il relitto che si trovava ovviamente sul fondo